Hai fatto lo varagno? Au! Ti aiuta a innamorare in una carogna? Au! Te prego bello mio, fate la cangia! Alcuni giorni la popolazione, nella tranquilla comunità di Lu... Nella tranquilla è in rivolta. La maggior parte dei cittadini è in rivolta. La maggior parte dei cittadini è contro il parroco Don Ciriacovo Zella, accusato di prendere iniziative, tese a stravolgere le abitudini interne ed esterne alla chiesa, senza interpellare nessuno. Lo spostamento dell'organo, la modifica al crocifisso ed altre nuove regole che la popolazione non ha condiviso hanno scatenato una serie di aspre polemiche. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati i danni arrecati al portone principale della chiesa, da parte di un uomo che su incarico di Don Ciriaco avrebbe dovuto modificare l'apertura dell'antico portone. Quel muratore che è andato a fare questo servizio, certo aveva richiesto anche l'invito di un fabbro per ferraio che mettesse in sicurezza questi antili che regolano il portone. Purtroppo non è avvenuto perché se ne è andato questo fabbro ferraio, temeva la popolazione di luogo sano e quindi mi hanno lasciato solo. Quello ha fatto tutto da solo, ma il guai è successo che questo ragazzo, questo giovane, padre di famiglia, purtroppo in difficoltà, separato dalla moglie, noi sappiamo che stiamo facendo in questi giorni per aiutarlo. In sacristia, a mezzogiorno, a luna, quando ha mangiato due panini e ha bevuto il liquore che il parroco di prima aveva lasciato nella sacristia, io non me ne sono accorto e l'ho trovato ubriaco. Di domenica lei aspetta tutti in chiesa? Certo, aspetto tutti in chiesa e tengo già la predica preparata. Quel giorno io non ho benedetto soltanto le 30 persone o le 10 della prima messa, ma ho benedetto anche quelli che stavano fuori. E sono uscito sul sagrato e durante la messa, che sono abituato a fare preghiere particolari, padre San, non ti chiedo pace e benedizione per questa gente che sta qua. Siamo pochi, siamo 30. Ricorda e benedici pure quelle che stanno fuori, perché possano veramente ravvedersi e tornare. Grazie a tutti.